Allora parto col dire che il gruppo di lavoro è stato fondamentale ed eccezionale, ma niente sarebbe stato gestibile senza Maurizio e Stefania. Io facevo già, vengo da una laurea in cinema, facevo già delle piccole esperienze, ma niente a che vedere con quello che abbiamo realizzato qui. Sono nozioni bellissime, interessantissime e non vedo l'ora di mettere in pratica questo nuovo modo di fare esperienza.